Giovanni, grazie del tuo tempo. Prima cosa che vorrei chiederti è un po' la impressione di questo workshop dell'Ambrosetti adesso ad aprile. È molto molto interessante. È un ambiente di specialisti, dove si parla di temi specialistici con essi alla finanza. Io sono molto soddisfatto di quanto ho sentito in questi giorni. Mi concentrerei moltissimo su un tema, proprio di questa mattina, che riguarda la difficoltà dell'azione della politica monetaria a incidere sui problemi sottostanti. Cioè come si fa, per esempio, a controllare, a fare fine tuning di un'inflazione che è allo 0,5-0,8-1%. Gli strumenti diventano difficili da maneggiare. E allora mi viene da pensare che bisogna fare molto, quanto più possibile, da soli. Certo sulla politica monetaria non si può fare da soli, ma sul miglioramento dei bilanci bancari, lì sì che possiamo agire. Quale sarebbe la strategia allora di utilizzare esatto questo? Ma in buona sostanza, io credo che le banche stanno facendo un percorso significativo di miglioramento dei loro attivi. In Italia abbiamo alcune banche che hanno provveduto a fare gli aumenti di capitale, si stanno facendo, alcuni ne hanno fatti, altri li stanno facendo. Ci sarà anche un affollamento sotto questo punto di vista nei prossimi mesi, anche in vista dell'AQR che è in corso. Questo potenzierà i bilanci delle banche e va nella direzione di far da soli. Non basta, c'è dell'altro, ci sono anche attivi che devono essere puliti, levati dai bilanci delle banche. C'è bisogno di fare qualche cosa in questo senso, quindi di migliorare ancora la qualità degli attivi delle banche.